A Teramo il comune ha deciso di offrire asilo nido gratis per le famiglie con ISEE fino a 8.000 euro e una tariffa progressiva per quelle che hanno un ISEE compreso fra gli 8.050.000 euro. Quindi non più scaglioni, non più a fasce di reddito, ma tramite il calcolo basato sul reddito attraverso un algoritmo che punta ad applicare una tariffa puntuale più equa per le famiglie terramane. Una scelta che porta la città di Teramo ad essere il primo comune in Abruzzo ad adottare questo nuovo modello di tariffazione è uno dei pochissimi a livello nazionale, riorganizzazione delle tariffe che avverrà a partire dal mese di settembre. È una manovra politica quella che abbiamo messo in campo per ribadire la centralità del servizio educativo nell'azione amministrativa quotidiana del comune di Teramo, la centralità dei bambini, il diritto all'istruzione e all'educazione, un diritto universale che va garantito quindi a tutte le famiglie. Iniziamo con questa manovra di grandissima equità e giustizia sociale che in qualche modo mette l'ultimo tassello su un percorso evidentemente più lungo che avevamo già avviato nei mesi scorsi. Vogliamo uscire da una situazione nel quale il servizio era, è e sarà un'eccellenza, ma rischiava di diventare elitario aprendoci quindi a quante più famiglie possibili, a quanti più bambini e bambine possibili per garantire questo diritto universale, una patente di cittadinanza per tutti i bambini e le bambine nel nostro territorio, accompagnando quelle che sono le famiglie che vivono in una condizione di maggiore difficoltà. Inoltre, oltre alla gratuità, fino agli 8.000 euro di ISEE, abbiamo previsto poi per le fasce successive una tariffa puntuale, ossia ad ogni singolo ISEE corrisponderà una specifica tariffa, questo per dare attuazione a quel principio di progressività che è stabilito dalla Costituzione.